Ciao, bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Un addio improvviso. Nessuno se lo aspettava. Ecco cosa è accaduto all'attore e produttore originario di Roma. Non vedremo più Massimo Ciavarro sul piccolo schermo. La notizia del suo addio ha portato molti suoi fan e non a domandarsi il motivo per cui sia accaduto tutto questo. Nato a Roma nel mese di novembre del 1957, è rimasto orfano di padre quando era poco più che un adolescente. Essendo rimasto l'unico uomo della famiglia, si è sentito responsabile della madre e delle due sorelle minori. Tanto da iniziare a lavorare giovanissimo come modello per alcuni fotoromanzi. La sua bellezza lo ha aiutato molto. Questo impiego è stato il suo trampolino di lancio verso la notorietà. Poco dopo infatti è entrato a far parte dei cast di commedia all'italiana molto in voga negli anni Ottanta. Interpretando sempre il bel ragazzo che fa cadere ai suoi piedi tutte le fanciulle che lo circondano. Ricordiamo Sorbole, che Romagnola, Sapore di Mare 2 un anno dopo, Cuingam, Grandi magazzini e Celluloide. Dopo aver trascorso un periodo lontano dalle telecamere, durante il quale ha fondato un'azienda agricola e si è dedicato al settore edile. È tornato alla sua carriera di attore. Questa volta però ha scelto di fare di più. Cimentandosi anche nel ruolo di produttore cinematografico. Lavorando insieme alla donna della sua vita. La famiglia di Ciavarro. La donna in questione è Eleonora Giorgi, attrice e regista, con la quale Ciavarro ha avuto il suo primo e unico figlio, Paolo. Due anni dopo la nascita del bambino, i due sono convolati a nozze. Portando avanti un matrimonio durato però solo tre anni. Nonostante la separazione, gli ex coniugi hanno continuato a frequentarsi per il lavoro. Dagli anni 2000, infatti, Massimo ed Eleonora hanno collaborato alla produzione e regia di molti film. Con Paolo c'è un forte legame. Padre e figlio hanno partecipato come coppia all'edizione di Pechino Express del 2013. Paolo intanto continua ad essere partecipe nel mondo dello spettacolo e del cinema. Mentre Massimo non ci sarà più. All'età di 65 anni, Ciavarro ha scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo per lasciare il posto a suo figlio Paolo e alla nuora Clizia in Corvaia. Alla sua età preferisce dedicarsi alla famiglia. Soprattutto da quando è diventato nonno del piccolo Gabriel. Durante un'intervista per i microfoni di Gran Hotel, ha raccontato come sia stata importante la sua proposta per il nome del nipote. Infatti suo figlio Paolo si sarebbe dovuto chiamare proprio Gabriel. Oramai la sua vita si divide tra Roma e Lampedusa. E il suo primo nipotino gli permette di avere tutte le giornate occupate. Quando rientra nella capitale. L'unica possibilità di rivederlo, sarà quella dei fotoromanzi. L'attore ha scelto di non abbandonare completamente le fotocamere. Gli strumenti che gli hanno permesso di debuttare nel mondo dello spettacolo. Raggiungendo una popolarità decisamente notevole. Altra alternativa, sarà quella di seguirlo sui suoi profili social. Grazie a tutti.